Per il ripescaggio al campionato di Lega Pro Divisione Unica 2017-2018 in caso di vacanza di organico saranno ammesse in ordine alternato una società che abbia disputato il campionato di interregionale nella stagione sportiva 2016-2017 seguendo la graduatoria predisposta dalla Lega Nazionale di Lettanti secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio federale ed in alternativa una società retrocessa dalla Lega Pro Divisione Unica. La FIGC inoltre ha diramato una dettagliata normativa che non ammette dubbi a livello di interpretazione. Ricordiamo che delle società retrocesse soltanto il Lumezzane può richiedere il ripescaggio mentre tra le campane la Nocerina è in buona posizione avendo vinto i play-off. Secondo le ultime indiscrezioni la Casertana starebbe pensando di ingaggiare Pasquale Porcaro, difensore centrale classe 88. Nell'ultima stagione tra i protagonisti della promozione in Lega Pro della Sicula Leonzio con 27 presenze ed un gol è in scadenza di contratto con il club siciliano e potrebbe dunque vestire la maglia dei falchetti nella prossima stagione. Il club rosso-blu molto attivo ha rinnovato il contratto di Simone De Marco, centrocampista centrale classe 94 che nella stagione appena terminata ha giocato nel compresso 37 gare. Si tratta di un rinnovo biennale col nuovo contratto che scadrà al 30 giugno 2019. Dopo quattro stagioni in rosso-blu dunque si rafforza il legame tra i falchetti del giocatore, tra i protagonisti della cavalcata appena conclusa. Grazie a tutti.